Via! Per un ragazzo che vuole letture brevi può essere un approccio importante e intelligente alla lettura. Perché dico che è bello? Perché noi come Senato abbiamo appena fatto storie di talenti e di ingegno di donne fino al 1861 e quindi in qualche modo si unisce idealmente a questo libro di Rita Levi Montalcini che si chiama Le tue antenate. Donne pioniere nella società e nella scienza dall'antichità ai giorni nostri. Ottima idea! Un bel libro sulla Repubblica Romana, ben scritto, circostanziato, con i luoghi di Roma. Fare conoscere le forze armate e la cultura della difesa è già un servizio meraviglioso. Abbiamo puntato su questo stand. Questa scelta dei quattro eroi è bellissima. Abbiamo la transizione ecologica con le piante. Qua c'è l'Inter e c'è anche il grande Torino che volete di più.